Questo è il quinto appuntamento del ciclo su Dante Alighieri, che è l'associazione culturale Antonio Rosmini, appunto dedicato al Sommo Poeta. Ora, il professor Ferroni è professore ordinario di storia della letteratura italiana presso l'Università della Sapienza di Roma e diciamo che ha scritto... Ormai è merito, eh? Prego? Ormai sono in pensione, sono emerito. Sì, però continua ad essere professore naturalmente perché è un presente diciamo continuato, insomma, un presente che continua, come si può dire. Ecco, è un professore che ha pubblicato numerosi saggi, dal 72 in poi l'elenco è molto lungo e sarebbe anche noioso per l'uditorio ascoltare tutti i titoli. Mi limiterò a ricordare che tra questi titoli ci sono uno spazio ampio e occupato da storie della letteratura italiana. Ad esempio la prima, mi sembra che la prima edizione del 1991, in quattro volumi, che poi ha avuto anche altre edizioni e ristampe e riedizioni, ad esempio dal 2012, stato dalla letteratura italiana il Novecento e il Nuovo Millennio, dalle origini al Quattrocento, dal Cinquecento al Settecento, dall'Ottocento al Novecento. Ma il professor Ferroni si è occupato anche di altri argomenti, ad esempio il comico Forme e situazioni, pubblicato nel 2013, ha studiato anche poeti importanti del Novecento, Giovanni Giudici e Andrea Zanzotto, ad esempio, e non si è sottratto in alcuni casi a polemiche nei confronti di autori che non ha esitato a stroncare, come Alessandro Baricco e altri letterati che non riusciva a stimare. Ecco, sempre presso Donzelli nel 2006, sul Banco dei Cattivi, a proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda. Quindi è un militante, è un critico vero, è un critico vero, insomma. E se ne sono molto pochi. Lui e Berardinelli probabilmente sono i due critici più attivi e più autentici sulla scena nazionale, proprio perché non si sottraggono al compito ingrescioso, difficile, sempre rischioso, di dire le cose come il soggetto stesso che sta giudicando le vede. Quindi in qualche modo un certo coraggio di espossi. Ma l'opera, diciamo, che è più pertinente per la conferenza di questa sera è l'Italia di Dante. Viaggio nel Paese della Commedia, pubblicato presso la nave di Teseo, nel 2019. È un testo di cui sicuramente il professor Ferroni ci parlerà e ricordo che è vincitore di due premi, almeno a me risultano due premi, vincitore della 46esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello per la sezione Opera Critica e poi del Premio Viareggio Repaci 2020 per la sezione Saggistica. Ecco, quindi adesso io sospendo questa breve introduzione, presentazione e do la parola al professor Ferroni. Grazie. Grazie professor Tugnoli, la ringrazio, ringrazio lei l'associazione Rosmini, Trento poi, e anche Rovereto, naturalmente, e Trento a cui sono particolarmente legato. Ringrazio anche il professor Clamer perché c'è la Dante Alighieri di Bolzano e anche quella di Merano che sono collegate, quindi mi fa piacere parlare alla regione, alla regione al limite nord d'Italia, vicino all'Alpe che serra la magna, come dice per l'appunto Dante. e in questo percorso che cercherò di fare attraverso delle immagini, che poi vediamo un po'. No, è spesso qualcosa con le immagini, però scusate che torno indietro. No, no. Va bene, ritorno. Scusate, no, dicevo, per quanto riguarda il percorso nell'Italia, dovrei giustificare prima, in fondo, le ragioni di quel mio viaggio, il viaggio che ha dato luogo poi a questo libro. Io da più di diventato, no, ormai quasi trenta, pensavo a quanto sarebbe stato bello fare un viaggio in tutti i luoghi d'Italia nominati da Dante, nominati nella commedia e non solo, soprattutto nella commedia. Non i luoghi dove Dante è stato, ma i luoghi che lui evoca nei contesti più diversi nel suo grande poema. E perché questa idea? Questa idea, in fondo, è nata dalla suggestione della forza evocativa della parola dantesca, dal fatto che il linguaggio di Dante fa sì che gli basta a volte nominare con un nome proprio, semplicemente, un luogo per farcelo in qualche modo balenare davanti. C'è questa forza espressiva del linguaggio dantesco, che è così forte, così intensa, che quindi mi ha sempre affascinato proprio nella sua capacità di far parlare le cose, l'evidenza della realtà. E allora questo si accompagnava, la mia passione per la geografia, che non è solo una passione personale, è anche legata al fatto che mi pare che la geografia sia un dato determinante del nostro rapporto col mondo e che purtroppo viene studiata sempre meno. Ho visto che le giovani generazioni, mi capitava pure quando facevo gli esami all'università, si trovano spesso, forse abituate troppo alla guida dei social o di tutti i sistemi che ci guidano nei nostri percorsi, per cui senza che noi guardiamo le cose, guardiamo lo schermo e troviamo i luoghi. Ecco, invece, proprio per tutto questo, credo, sento che le giovani generazioni si stanno un po' troppo allontanando dalla conoscenza specifica della concretezza dei luoghi. Quanto ci è importante poi un momento come questo, dove proprio è in pericolo lo spazio, l'ambiente, e questo l'abbiamo visto, in fondo, anche nel contesto del covid, molti scienziati ci hanno detto che c'è qualcosa che agisce proprio a livello ambientale, che ha portato a una cosa terribile come la pandemia. Quindi la necessità di confrontarci con i luoghi, con la loro concretezza, con la loro evidenza più assoluta. Ecco, allora, questa esigenza, che è un'esigenza molto contemporanea, e l'effetto fortissimo della parola di Dante mi ha fatto, come dire, mi ha spinto a fare questo percorso in tutti i luoghi d'Italia e a vedere insieme, è quello che ho tentato di fare nel mio libro, non solo il contesto dantesco, non solo i luoghi danteschi, ma vedere quello che poi questi luoghi sono divenuti, come sono oggi, nel bene e nel male, e qual è tutta la storia che ci è passata sopra, l'arte che vi si è costituita. Certo, se fossi andato a vedere proprio tutto, avrei fatto un'enciclopedia, no? Quindi ecco, c'è un po' qualcosa di enciclopedico in questo libro, ma non è un'enciclopedia un po' occasionale, è determinata dal confronto, dall'incontro che c'è stato con certe situazioni, con certi luoghi, perfino con certi ricordi della mia vita, con dei fatti personali, e credo che la forza della parola di Dante è stata per me, ma può essere per tanti uno stimolo a questo, a partire dall'intensità del suo linguaggio, dalla forza espressiva e dalla capacità di nominazione che ha la sua poesia per confrontarsi con quella che è la realtà intorno, la realtà di Dante è così lontano, il suo mondo è così distante da noi, ma il paese che abbiamo davanti è cambiato radicalmente, però la sua terra è sempre quella, anche se ci abbiamo lavorato nei secoli sopra, è stata modificata, è stata costruita, costruita spesso in modo meraviglioso, altre volte in modo misero e poverissimo, altre volte in modo distruttivo, come è stato fatto purtroppo nell'ambiente degli ultimi decenni, già nel dopoguerra, lacerata dalle guerre e poi da tantissime cose, è divenuta questa terra e noi possiamo ascoltarci ad essa, interrogarla proprio spinti dalla parola di Dante, andando a riconoscere tante cose che poi si sono accumulati in essa nel corso del tempo. Ecco, questo credo che può essere utile pure anche a livello didattico, un'esperienza che si può fare con i luoghi che si hanno vicini, che si hanno a disposizione, stimolare i ragazzi ad andare a tirarne fuori altro, ma tutto quello che c'è, per esempio, naturalmente, toccando Trento, che viene nominata appena da Dante, però uno non può non confrontarsi con tutta la sua ricca storia, con tutto quello che c'è passato dentro, non c'è solo quindi, è intorno, non c'è solo il monumento a Dante, naturalmente, che è la cosa più dantesca, più esplicitamente dantesca, che pure evoca un momento particolare della storia, evoca un poeta come Carducci e tante altre cose, non c'è solo quello, ma c'è tutta una rifchissima storia a cui bisogna dare comunque uno sguardo, a ciò che era ai tempi di Dante, ciò che è venuto dopo. Ecco, quindi la spinta che mi ha portato a questo libro è stata in fondo proprio questa, individuare il volto di un'Italia, che è l'Italia di oggi, ma attraverso la parola di Dante, riaffacciandosi verso la distanza poi di Dante da noi. Ora, io cercherò di... non so se riesco a ritrovare le immagini, ecco, come avevamo fatto prima. Eccole qua, sì, sì. Benissimo. Facciamo la presentazione dall'inizio. Ecco, no, un po' di immagini che ci accompagneranno. Io adesso percorrerò qualche momento dell'Italia di Dante, del mio viaggio. Qui vedete, si comincia con una cosa, questa molto, molto nota, naturalmente, è il quadro di Domenico di Michelino, quattrocentesco, che si trova proprio nel Duomo di Firenze, Santa Maria del Fiore, dove Firenze, che aveva essiliato tanto, non l'aveva tenuto così lontano, minacciosamente lontano, già pochi anni dopo la sua morte, ha cercato di recuperarlo, in qualche modo, e dopo pochi decenni, quel poeta, quel guelfo bianco, che era stato condannato a morte, all'esilio, e non era mai potuto rientrare, e diventa una sorta di emblema fiorentino, al punto che nella seconda metà del Trecento, oltre tanti commenti che vengono elaborati, proprio anche in ambito toscano e fiorentino, la cosa più nota sono le lezioni che fa boccaccio nella parte finale della sua vita, arrivando soltanto a un certo punto dell'inferno, non potendo concludere queste sue letture. Ecco, però quindi c'è tutta una mitologia dantesca, poi, che si costruisce a Firenze, e quindi nel Quattrocento i fiorentini dedicano questa pittura, quest'opera a Dante, mostrando proprio, tra l'altro, il suo legame con la città, perché c'è uno squarcio di Firenze, tra l'altro con una cupola, il famoso cupolone di Santa Maria del Fiore, che ovviamente ai tempi di Dante non esisteva assolutamente, ma non esisteva nemmeno Palazzo Vecchio, la cui costruzione è cominciata proprio alla fine del Duecento, e quindi Dante non l'ha visto portato a termine, come non ha visto portato a termine il campanile di Giotto. Ecco, tutte cose che sono cominciate a venire fuori allora, quindi la città era completamente diversa. Qui da una parte la città, dall'altra uno squarcio del mondo dantesco, dove è in piena evidenza il purgatorio, con molti particolari, mentre c'è appena un piccolo squarcio in basso sull'inferno e qui nella diapositiva non si vede bene, ma sopra ci sono i ceni del paradiso. Ora, ecco, questo è un inizio che non è tanto collegato al mio viaggio, quanto è perché c'è quell'immagine, anche perché una cosa a cui Dante ci stimola e ci invita a pensare è il rilievo culturale della città. Non a caso lì c'è la città di Firenze, come dopo Dante in realtà, indicando un legame fortissimo che Firenze vuole avere con Dante, tanto più che a un certo punto, lo dico come curiosità, però è anche interessante tutta la vicenda, è successo che i fiorentini hanno preteso di avere le ossa di Dante a un certo punto, avendo tenuto vivo Dante fuori, ma addirittura accadde che con il papato del fiorentino Mediceo Leone X, il figlio di Lorenzo il Magnifico, ci fu una richiesta ufficiale a Ravenna, ai francescani di Ravenna che custodivano il corpo di Dante, una richiesta di trasferirlo a Firenze con un degno sepolcro. La cosa è che uscitò grande agitazione nei frati francescani che cominciarono per la prima volta nascosero i resti di Dante, e cioè si farà nei secoli successivi tutta una storia, una vicenda di nascondimenti, ritrovamenti, eccetera, una storia molto particolare, curiosa assai. Per fortuna dei francescani Leone X morì poco dopo perché fece questa rimpiesa nel 19 e morì all'inizio del 1521 e poi non se ne fece più niente con tutto il caos di quegli anni delle guerre d'Italia, eccetera. Comunque, ecco, questo è un piccolo particolare marginale ma che mi piaceva ricordare. Poi, naturalmente, se vogliamo parlare d'Italia, di italianità di Dante, non possiamo non riferirci. Come del resto, io ho indicato anche nel mio titolo, mi pare, sul fatto che l'identificazione di una unità linguistica d'Italia, pur nella differenza tra quelli che noi chiamiamo dialetti, ma che Dante considera, in fondo, anche quasi delle lingue autonome, pure in questa articolazione di ben 14 volgari d'Italia, Dante concepisce che questi 14 volgari rappresentano comunque un insieme unitario e questa dimensione unitaria è data dal fatto che si possono definire come tutti appartenenti alla lingua del sì, no? E non a caso, no? Il bel paese là dove il sì suona è la formula che Dante usa per indicare l'Italia in un contesto che riguardava soltanto Pisa, Hai Pisa, Pituperio delle Genti, del bel paese là dove il sì suona, no? Quindi l'Italia viene subito identificata per questo e la lingua del sì del resto è distinta da Dante dalle vicine lingue della lingua doc e la lingua doil cioè la Provenza e la Francia, no? Vedete, poi c'è la cartina delle varie lingue Dante ma lasciamo passiamo ad alcune tappe in cui ecco un viaggiatore nell'Italia potrebbe andare a farsi una mappa di tutti i luoghi dove ci sono ritratti di Dante e sono tutti ritratti che sono un po' lontani naturalmente dalla sua effettiva immagine perché sono tutti ritratti postumi come sapete non abbiamo nessun ritratto veramente preso dal vero anche se qualcuno qualche volta crede di identificare qualcuno ha creduto di identificare un'immagine di Dante perfino nella cappella degli strovegni di Padova sulla controfacciata dove c'è il giudizio universale ci sarebbe una figura che sarebbe quella di Dama e credo che però non sia molto probabile la cosa questo è un altro ritratto che si trova è una cosa poco meno noto questo che si trova comunque là vicino nel ciò che resta del palazzo dell'arte dei giudici e dei notari dove adesso c'è addirittura un ristorante c'è un ciclo di Tardo Trecento dove sono apprescati vari intellettuali fiorentini tra cui Dante questo sarebbe quello che resta dell'appresco relativo a Dante poi c'è Petrarca Boccaccio e Zanobi da strada è una cosa singolare io l'ho scoperto non lo conoscevo l'ho scoperto durante il viaggio poi ho studiato ho letto dei saggi storici dell'arte che hanno ricostruito tutto l'orizzonte di costruzione di questo ciclo di affreschi che adesso stanno in un ristorante e si può mangiare guardando Dante lassù ora ecco questo è Dante e arriviamo subito alla parola Italia che la prima volta che si presenta nella commedia è un passo famosissimo nel primo libro e nel primo canto dell'inferno quando Virgilio parla del velcro questo salvatore che verrà a cacciare la lupa e a salvare l'Italia indicherà proprio l'Italia con questa formula che è rimasta celebre umile Italia di quella umile Italia che ha salute per cui morì la vergine capilla e un rielo e turno e niso di penute umile Italia come è una cosa molto nota questa no è una deformazione fraintendimento forse o deliberata deformazione di una usata nel terzo libro dell'Eneide quando i troiani si avvicinano a Roma vedono umilem quevidemus italian in quel contesto umile Italia vuol dire l'Italia bassa cioè la spiaggia italiana la parte bassa dell'Italia e più lontano si vedono i colli tra l'altro dal mare vedono la spiaggia qui Dante trasforma quell'umile che ha un valore semplicemente geografico topografico lo trasforma in un aggettivo di tipo morale no? che fa riferimento al non all'Italia dei dei tiranni contro cui si scaglia nel 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 suo poema non all'Italia eh del della nobiltà dell'orizzonte cortese insomma o della ricchezza dei mercanti fiorentini contro cui altrettanto si scagliano ma un'Italia del lavoro della della persistenza nella vita quotidiana no? dell'attaccamento alle cose che contano no? nella sofferenza del vivere eh questo aggettivo è stato ripreso poi anche eh da autori successivi fino a Pasolini per esempio che ha insistito molto sulla perdita dell'umile Italia sull'Italia che non c'è più e l'Italia contadina deformata e distrutta secondo lui no? dall'orizzonte neocapitalistico e le nel contesto italiano prevalgono naturalmente da una parte le città dall'altra il paesaggio eh dall'altra le montagne castelli e le città naturalmente con cui ha a che fare nel modo più diretto Pasolini sono Roma e Firenze scusate Dante con cui ha a che fare direttamente Dante sono Roma e Firenze naturalmente no? eh e sono due immagini quasi opposte di città l'artice della della cultura eh di Dante in origine è tutta fiorentina si potrebbe dire che la cultura dantesca ha una una qualità proprio legata strettamente all'origine no? alla alla vita quotidiana perfino all'orizzonte culturale all'orizzonte anche eh antropologico no? di costruzione del quotidiano della sua Firenze in fondo la sua vita nuova no? l'operetta su Beatrice anche se non nomina direttamente il nome di Firenze però fa sempre riferimento alla città della città tutto si svolge nel contesto del della città negli incontri della vita cittadina con l'esilio Dante è catapultato fuori eh da Firenze no? si incontra con un mondo completamente diverso si incontra con le corti dei signori feudali si incontra con i castelli del eh dell'Appennino del Casentino dell'Appennino della Lunigiana si incontra poi con le città della Romagna della Valle Padano e rispetto però a Firenze che considera sempre più nemica no? si scaglia contro la Firenze contemporanea che non eh non lo accetta che lo condanna in questo modo no? tremendo rispetto a Firenze Roma che pure lui amava molto come scultore dell'antico del mondo classico Roma diventa il modello positivo c'è uno scontro continuo diciamo eh che che culmina poi nel paradiso addirittura in certi momenti del paradiso ma Roma diventa un modello positivo non solo perché è ancora la Roma non è tanto la Roma contemporanea no? quanto la Roma dell'antichità quella del tempo di Augusto non a caso appunto nel primo sempre nel primo canto dell'inferno no? Natti ciubiulo ancora che fosse stare vissi a Roma sotto il buono Augusto al tempo degli dei falsi e bugliari lo dice Virgilio naturalmente no? Ora però la Roma imperiale la Roma dell'impero antico secondo Dante è è sta ha raggiunto no? il suo così potenza proprio per dar luogo ad una unificazione del di tutto il mondo che rendesse lo rendesse in pace sotto Augusto per rendere possibile per dare un quadro adeguato alla nascita di Cristo no? all'avvento alla discesa di Cristo interno no? qui c'è un orizzonte religioso che si collega a questo qui Roma è un modello di non solo di potere di gloria no? ma anche di unità di pace del mondo e questo e questo Dante mi dice può ritorno nell'impero nel presente quando scende in Italia l'imperatore tedesco Enrico VII naturalmente Dante insiste molto sulla ritorno a Roma sulla ristorazione di Roma sul ritorno di una possibilità di pace in Italia e in tutto il mondo cristiano in riferimento a Roma e ora questo quindi è un dato che continuamente fa presentare Firenze come il luogo che traligna che addirittura si è consumato e si è rovinato attraverso la sua testa espansione economica e con una avidità che è dominata dal maledetto fiore il maledetto fiore naturalmente il fiorino la moneta del tempo che è il dollaro del tempo praticamente la moneta più prestigiosa del mondo cristiano di allora Firenze è avvelenata dal maledetto fiore mentre Roma è addirittura è il modello antico di quella che deve essere la civitas è il modello civile la civita cristiana a cui è destinato Dante stesso e c'è una espressione bellissima che viene usata a un certo punto da Beatrice verso la fine del del purgatorio quando dice a Dante che rimarranno ancora un po' di tempo nel paradiso terrestre e poi passeranno in paradiso e dice qui sarai meco sarai un po' con me come Silvano che abiti dei boschi qua nel paradiso terrestre poi dice e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano la civita la città di Dio viene nominata attraverso una metafora che richiamo Roma diventa Roma no? sarai meco cittadino senza piniano di quella Roma che non è Roma vera la Roma onde Cristo è romano quindi Roma è addirittura un modello non solo del potere del necessario potere terreno il potere dell'impero che deve non contraddire ma accompagnare il potere spirituale del Papa Roma non è soltanto modello del potere terreno ma si proiettano come modello del del paradiso praticamente ora questo naturalmente non possiamo stare a seguire tutti le immagini di Firenze e di Roma che si danno nella commedia qui ci sono solo alcuni momenti che attraverso rapidamente la prima volta che viene nominata a Firenze è appunto nel sesto canto dell'inferno quando Firenze si viene presentato nel colloquio tra Dante e Ciacco siamo nel cerchio dei Colossi come città partita la città divisa ecco il primo elemento negativo della Firenze contemporanea è la divisione ma a questo elemento se ne aggiungeranno altri sempre più negativi fino al paradiso quando si insisteranno sulla rovina data dal maledetto fiore e poi quando Dante si troverà nell'Empire nel cielo alti fuori dei cieli si guarderà meravigliato l'immagine formidabile della candida rosa dell'Empire e farà una similitudine che ricorda i pellegrini che da posti lontani come può essere la Croazia vengono fino a Roma e quando vedono Roma restano meravigliati ecco o anche i barbari come facevano i barbari nei tempi antichi venendo da lontano si trovavano di fronte alle meraviglie di Roma e paragona questo al modo in cui lui stesso invece si trova meravigliato di fronte alla bellezza del paradiso mostrando il fatto che lui viene da un posto così negativo come Firenze lui viene da Firenze come i barbari venivano da paesi lontani dall'estremo nord dal gelo e trovavano le meraviglie di Roma così Dante che viene da Firenze in un popolo giusto e sano come quello del paradiso quindi ancora anche lì alla fine del paradiso la Roma celeste e Firenze vengono messe l'una contro l'altra e Firenze è anche il luogo ecco c'è c'è l'immagine negativa di Firenze ma c'è anche la nostalgia per il legame originario con la Firenze che era il bello vile anche dove lui ha dormito Agnello il battistero e tra l'altro nel venticinquesimo canto del paradiso quando il poema sta per giungere alla fine Dante pensa all'impossibile ritorno a Firenze dove potrà prendere la corona di poeta vicino all'ovile dove dormì Agnello nemico ai lupi che gli danno guerra è il battistero di Firenze che viene ricordato nell'interno nella terza bolgia dei simoniaci quando Dante incontra i papi simoniaci si trova anche al luogo dove è punito Niccolò III i papi sapete simoniaci stanno dentro dei fori sono a testa in giù si vedono uscire dai fuori solo le gambe e i piedi lambiti da lingue di fuoco e Dante e Virgilio si trovano davanti a questi luoghi che vengono indicati come qualcosa di simile a dei pozzetti che stavano nel battistero di Firenze e che il mio bel San Giovanni lo chiamano e questi fuori dice non mi parea né ampi né maggiori di quei che sono nel mio bel San Giovanni fatti per luogo dei battezzatori e che lui a un certo punto ha rotto una volta e qui ci sono tutti i studi che insistono sulle varie ragioni di questa rottura ma lasciamo perdere naturalmente ma la cosa perché la cosa più singolare che voglio far notare è che lì Dante di fronte a Niccolò III viene scambiato da Niccolò III per Boniface VIII Niccolò III attende infatti l'ha saputo dalle profezie dall'antivedere il futuro che hanno fino a un certo punto i dannati ha saputo che dopo di lui verrà Boniface VIII lui ci metterà più giù nel pozzo e al pozzo suo ci sarà Boniface VIII ma il fatto è che Dante viene scambiato e qui mi pare che questa è una delle delle scambiato il suo stesso nemico e infatti Niccolò III dice sei tu già posti ritto sei tu già posti ritto Boniface Virgilio gli dice subito no digli che non sei tu non sono colui non sono colui che ti credi ora tutto questo si riannota però al ricordo di un luogo fiorentino come come ancora questa è un'altra immagine del Firenze poi uno dei pochi che è rimasto come come doveva essere ai tempi di Dante è la chiesa di San Miniato al Monte che viene ricordata nel dodicesimo del Purgatorio quando per indicare insomma il modo di salire da un girone all'altro del Purgatorio si ricorda il percorso per ascendere sul Monte dei Cocci dove si trova la chiesa di San Miniato al Monte e prima di il luogo da cui si parte per salire sul Monte dei Cocci oltrarlo è quello che oggi si chiama Ponte Alle Grazie e che era così nell'ottocento adesso è cambiato e Dante lo ricorda come il punto da cui si sale poi al di là verso sinistra dell'immagine si sale su adesso è così la salita del Monte si rompe del salire l'ardita da poca dice Dante facendo riferimento alla ascenza fino alla meravigliosa chiesa di San Miniato al Monte che è uno dei pochi monumenti che già erano in chiesi più o meno naturalmente ha avuto qualche modificazione nel corso del tempo ma la struttura architettonica è perfettamente conservata è uno dei luoghi naturalmente più affascinanti di Firenze Firenze che viene vagamente ricordata in tutte le più varie zone naturalmente della città soprattutto nel discorso di caccia guida che si dilunga molto sulla Firenze antica e su come questa Firenze antica è stata rovinata secondo lui da tutti coloro che sono venuti dal contato e hanno portato una sorta di corruzione nella città e tra i vari luoghi che vengono ricordati è il mercato di Firenze che la piazza del mercato esisteva ancora fino all'ottocento questa è l'immagine appunto degli anni intorno al momento in cui Firenze è stata nominata molto provvisoriamente capitale d'Italia nel 1864 e la piazza del mercato però fu completamente modificata per fare una piazza di tipo molto piemontese piazza Vittorio Emanuele secondo che adesso invece è piazza della Repubblica proprio del centro di Firenze quindi ecco qui sono dei passi che citavo prima per quanto riguarda il rapporto tra Firenze e Roma per parlare di Roma Dante usa la formula laterano quando laterano alle cose mortali andò di sopra laterano però in tempi di Dante era il palazzo del Papa questo è nella forma attuale molto più tarda naturalmente accanto alla Basilica di San Giovanni che esisteva già allora e queste logge che si vedono costituiscono oggi l'uscita posteriore della Basilica ma con una loggia che era nel Cinquecento ma era ancora ai tempi di Dante la loggia per le benedizioni naturalmente l'assetto attuale non è quello del tempo d'Antesco ma è quello fatto costruire dal Papa Sisto IV nel Cinquecento V scusate dal Papa Sisto V nel Cinquecento come loggia delle benedizioni ma in quella stessa posizione c'era la loggia delle benedizioni ai tempi di Dante con un'architettura ovviamente completamente diversa che a cui si affacciò il Papa Bonifacio VIII al momento della proclamazione del Giubileo e di questo è rimanato questa è la facciata che è propria della Basilica attualmente ecco c'è questo questo resto di appreso è un frammento di appreso di Giotto che si trova su un un pilastro interno della della Basilica di San Giovanni attualmente ma che è il resto di un di un affresco più ampio che fu demolito quando fu creata quella loggia cinquecentesca la famiglia Caetani i discendenti del Papa Bonifacio VIII sono riusciti a salvare il punto centrale di questo affresco che è stato attaccato poi sistemato nel pilastro in quel pilastro della chiesa con Bonifacio VIII con due cardinali che benedisce per la indicendo il il giubileo quindi è un documento particolarmente significato che chiama ancora in causa Dante che tra l'altro chiama fa riferimento molte volte naturalmente a Bonifacio VIII il suo maggior nemico questo Papa è uno dei personaggi che si affacciano più volte nell'inferno tra l'altro nel ventottesimo nel ventisettesimo canto dell'inferno Guido da Montefeltro racconta la vicenda per cui lui che si era ritirato in un convento francescano pentito di tutte le sue colpe di tutta la sua vita violenta di violento ingannatore viene richiamato da Bonifacio VIII che gli chiede un consiglio di frote per prendere palestrina in cui erano asserragliati i suoi nemici e addirittura lo assolve del peccato prima che il peccato sia commesso facendo riferimento alla propria autorità papale io posso serrare e disterrare le chiavi di Pietro quindi Guido da Montefeltro accetta la cosa e dà questo consiglio di frode e quando muore però si trova sul diavolo di andare in paradiso invece lo porta all'inferno luce devo fare scende la sera è così ecco Bonifacio VIII viene naturalmente chiamato più volte in causa e addirittura nel paradiso è una cosa singolare questa tra le ultime parole di Beatrice prima che si congeda da Dante c'è una battuta contro Bonifacio VIII chiamato con disprezzo quel d'Alagna quello di Anagni perché tra l'altro ad Anagni Bonifacio VIII aveva avuto l'offesa da parte dei francesi del re Filippo il Bello il famoso schiaffo di Anagni il cosiddetto e quel d'Alagna dice fa riferimento al momento che quel d'Alagna andrà giù nell'inferno pensate le ultime parole di Beatrice siano proprio queste tra le cose romane poi del percorso romano viaggiando per Roma non si può dimenticare la pinna di San Pietro la pigna a cui vengono paragonati i giganti del cosiddetto in particolare del volto che sono così grandi con un volto che è simile a quello di questa pina di San Pietro a Roma ora questa pigna di San Pietro eccola qua è stata oggetto recentissimo tra l'altro di un restauro di un ottimo restauro ce n'è parlato molto nei mesi scorsi era stata tolta da questo cortile della pigna in Vaticano nei musei vaticani adesso è stata ricollocata lì è un singolare oggetto bronzo che risale a età romana e si trovava nelle terme di Agrippa nella zona di Campo Marzio quindi nel centro di Roma vicino al Parlamento proprio vicino alla Camera dei Deputati dove attualmente credo ci sia proprio la votazione di fiducia per il nuovo governo era una fontana e l'acqua zampillava proprio da una pigna che fu collocata poi sopra una scultura sempre di epoca romana con un assetto intorno per opera dell'architetto piroligorio nel cinquecento quindi era un oggetto particolarmente interessante che è stato rimesto a nuovo e ricollocato proprio recentissimamente nei musei vaticani eccolo ancora qua ma il modello di città naturalmente può essere del tipo più diverso che secondo come Dante si riferisce e tra questo per esempio c'è una piccola città turrita circondata da torri che è quella di Monteriggioni nei pressi di Siena a cui ancora vengono paragonati i giganti stessi per indicare la testa di Dembrotte ha indicato la pigna per indicare il fatto che i giganti sono confitti nel ghiaccio del fiume del lago Cocito confitti nel ghiaccio tutti intorno e lì praticamente lo stesso fanno le torri di Monteriggioni che circondano la cittadina fortificata come per esempio possiamo vedere ecco qui tutta un'immagine da lontano qui dall'alto è un affascinante luogo anche questo che era così almeno la cinta muraria e le torri erano così disposte già perfettamente ai tempi di Dante ma naturalmente una delle regioni poi più percorse da Dante e la Romagna durante tutto il periodo del suo esilio tra il Casentino cioè e l'Appennino Tosco Romagnolo e la Romagna ha variamente frequentato questi luoghi è stato il rapporto poi con personaggi delle cortie dei castelli della Romagna e del Casentino e in fondo la prima il primo personaggio che è l'uscita viene proprio da lì Francesca da Polenta che ricorda Ravenna noi la chiamiamo tutti da Rimini però in realtà lei era da Ravenna siede la terra dove nata tu sulla marina dove il Po discende per avere pace coi seguaci tui c'è questo riferimento a Ravenna che sta vicino al delta del Po la marina dove il Po discende per avere pace coi seguaci tui qui addirittura è lo scendere del Po verso il mare è come verso la marina è come un andare verso quella pace che invece a Francesca e a tutti i dannati è negata ecco questo è il quadro di William Blake sui lussuriosi del del quinto canto dell'inferno ecco Ravenna come sapete c'è la tomba di Dante abbiamo prima fatto riferimento qui è il celebre quadro di Eng sapete che c'è una vastissima produzione di opere d'arte basate sul modello dantesco ci sono dei libri molto interessanti recenti tra l'altro in proposito di moltissime immagini e nell'ottocento poi soprattutto c'è una produzione sterminata è uno dei temi che più colpiscono l'immaginario romantico ovviamente è il bacio di Paolo e Francesca questo è il quadro di Eng qui addirittura c'è Gianciotto che sta subito in agguato il bacio precede immediatamente l'assassinio vedete c'è il libro anche caduto in basso e quel giorno più non vi leggemmo avante la Romagna e la famiglia dei Malatesta di cui a parte Paolo e il fratello Gianciotto veniva da Melucchio che è una località dove c'è la Rocca Malatesta tutt'ora molto vicino a Rimini nell'entroterra riminese e è interessante vedere come Dante approfitti di questa parola con questo suono anche con questa rima Ucchio rima radissima tra l'altro Verucchio per ricavarle un'immagine della violenza della stessa famiglia dei Malatesta nell'inferno vengono citati il fratello di Gianciotto e di Paolo Malatestino e il loro padre Malatesta da Verucchio come coloro che fanno là dove Soglion fanno dei denti succhio il il mastino giovane il mastino più vecchio da Verucchio là dove Soglion fanno dei denti succhio dominano nel luogo solito cioè Rimini e dintorni per indicare la violenza del loro dominio fa questa usa questa formula fanno succhiello con i denti sembra che i denti proprio entrino con la loro violenza fino in fondo del corpo del tessuto della città dei luoghi ora questa questa rima Verucchio succhio è suscitata proprio e questa immagine della violenza dei Malatesta viene suscitata proprio dall'effetto fonico della parola succhio e questo rivela come agisca fortemente l'inventiva dantesca questa invece è un'altra rocca che Dante cita nel purgatorio è la rocca di San Leo sempre tra le Marche e la Romagna basti in Zalleo e ti scende sin nori montasi per bismantola in cacume con esso in pie ma qui conviene con voli fare riferimento a luoghi per salire dei quali c'è bisogno di una bella rampicata per fare riferimento a questi luoghi Dante fa riferimento a questi luoghi per presentare al lettore l'immagine della fatica della salita sul monte del purgatorio lì è faticoso salire sul San Leo ma nel purgatorio è ancora bello bisognerebbe volare a un certo punto quindi questo uso dei luoghi in rapporto alle similitudini è molto importante è un riferimento continuo alla realtà dell'Italia contemporanea per offrire l'immagine della realtà immaginaria della configurazione topografica di questo oltretomba e nel Casentino poi ci sono invece tanti luoghi danteschi perché il Casentino Dante l'aveva cioè l'Alta Valle dell'Arno sarebbe il Casentino Dante l'aveva attraversato più volte specialmente nell'esilio ma l'aveva attraversato anche nella giovinezza quando era ancora a Firenze partecipando tra l'altro alla battaglia di Campaldino contro gli Aretini contro i Ghibellini di Aretino e i Ghibellini di Firenze ottenero una grande vittoria Campaldino nel 1289 a cui partecipò Dante tra i fenditori a cavallo cioè addirittura tra la prima schiera di coloro che dovevano attaccare all'inizio della battaglia e Campaldino mantiene presenta una varie testimonianze c'è un monumento che poi vedremo più avanti un monumento che ricorda la battaglia ma il Casentino viene citato proprio per la dolcezza dei suoi freschi ruscelli gli ruscelletti che vengono ricordati da da Maestro Adamo che è un personaggio punito nel fondo dell'inferno tra i falsari perché ha falsato la moneta di Firenze sotto la spinta in suggerimento dei signori di Romena i conti Guido e Alessandro di Romena e ecco il castello di Romena che si trova non lontano da Campaldino tra l'altro è stato visitato ci sono molto testimonianze dall'unziane perché dall'unziane scriveva la lapide con versi tantesti una fonte che viene ricordata da questo maestro Adamo che dice che se lui riuscisse a vendicarsi su quei fratelli che l'hanno costretto a fare a falsare la moneta di Firenze rinuncerebbe perfino a Ponte Branda cioè all'acqua di cui ha bisogno a sede perché questi falsari sono condannati proprio a febbre di vario genere e ad una sede incolmabile continua senza fine e senza punto questo ricorda i ruscelletti proprio nella sua sede inestituibile ricorda i ruscelletti che scendono dai verdi passi del Casentino e in particolare questa ponte che chissà se era proprio così allora naturalmente ma che si trova poco prima del castello di Romena ecco i ruscelletti che scendono dal monte Falterona verso l'Armo ecco il monumento a Campaldino è il ricordo della battaglia a cui partecipò Dante e in cui morì era uno dei capi dei bellini di Arezzo buon conte da Montefeltro che Dante incontra nel purgatorio tra coloro che sono morti con pentimento in articolo mortis e tra cui c'è buon conte da Montefeltro di cui si era perduto il corpo sparito e Dante inventa il fatto che buon conte si sarebbe pentito all'ultimo momento il demonio sarebbe andato lì per portarlo via ma poi l'angelo glielo avrebbe impedito perché il pentimento era valido e quindi viene portato poi in purgatorio e per vendetta il demonio nei confronti del coro si accanisce contro il corpo di buon conte e fa scatenare una tempesta che porta via il corpo nell'Archiano che è un affluente dell'Arno presso cui era caduto buon conte e poi l'Archiano lo porta via lo trascita nell'Arno e lì vicino c'è un altro posto frequentato da Dante il castello di Poppi dove Dante fu ospite del signore Guido di Battifolle e tra l'altro un fatto curioso interessante a Poppi Dante ha scritto delle epistole all'imperatore c'è soprattutto particolarmente curiosa una è ben tre redazioni nessuna come si sa è autografa perché di Dante non si trova nessun autografo ci sono ben tre redazioni diverse di una lettera che Dante ha scritto per nome della principessa della contessa per la precisione di Poppi la moglie appunto di Guido di Battifolle rivolto all'imperatrice garantendo l'appoggio di Guido di Battifolle che pure era quelpo appoggio all'imperatore comunque ora purtroppo fu sfortunata la moglie dell'imperatore perché durante il viaggio di Enrico VII Margherita di Brabante morì poi a Genova dove poi è stata sepolta ma la cosa curiosa è che questa lo dico per cosa che non si nota di solito ma lo dico come curiosità la cosa curiosa è che la contessa di Poppi la moglie di Guido di Battifolle era nient'altro che la figlia del conto Colino quindi vedete Gerardesca si chiama Gerardesca di Gerardeschi tra l'altro figlia del conto Colino e viene da fantasticare se Dante abbia ideato l'episodio del conto Colino proprio quando stava a Poppi perché siamo ancora 1307 l'inferno doveva essere cominciato ma non finito non era certo arrivato alla fine oppure l'aveva finito prima e gliel'ha fatto leggere l'emozione della contessa alla lettura della tremenda vicenda del padre ecco queste vicende dove la vita personale si sovrappone all'esperienza letteraria sono sempre di grande interesse come è di interesse il fatto per esempio che Dante da molto giovane ed adolescente poteva aver visto Paolo Malatesta che era stato potestato a Firenze ecco c'erano sempre e aveva lasciato la carica prima del tempo ma tra l'altro un altro luogo che viene ricordato è naturalmente Camaldoli questo è nel Casentino l'eremo di Camaldoli e poi soprattutto nell'undicesimo canto del paradiso viene ricordato un crudo sasto tra Tevero e Arno che laverna proprio a proposito di San Francesco nel racconto che San Tommaso pare della vita di San Francesco si ricorda l'episodio dell'estimate che Francesco avrebbe preso proprio nel monte della Verna che allora naturalmente era un semplice eremo adesso c'è un santuario famoso molto bello commovente in tutta la sua struttura proprio anche nel punto dello strapiombo dove secondo la leggenda addirittura il demonio avrebbe voluto far precipitare Francesco cosa che naturalmente non accade e poi Dante ricorda la sorgente del Tevere che esiste adesso anche è stata attrezzata sotto nel sapete che le sorgenti dei piumi sono tutte relative perché sono tutte acque che che confluiscono dai monti e poi nella vostra regione di sorgenti di fiumi che nascono ce ne sono tantissimi però non è mai identificabile è sempre una cosa convenzionale individuare una delle fonti parezza come la fonte totale la sorgente totale del fiume così la sorgente del Po e tutte le altre sorgenti quella del del Tevere sul monte Falterona sul monte Fumagliolo è stata addirittura in epoca fascista è stata sistemata attrezzata anche perché il duce del fascismo ci teneva molto a quei luoghi perché è predacchio la sua patria non è lontana da lì e è stata sistemata poi nel nome del Tevere fiume sacro il fiume di Roma fu sistemata variamente ma io a proposito del Tevere vorrei procedere ora dalla sorgente fino attraversando tutta l'Umbria su cui naturalmente anche nel mio viaggio ci sono state tantissime tantissime occasioni di riflessione di incontro con i luoghi più diversi Lunga in Lazio Roma naturalmente fino alla foce del Tevere che viene ricordata nel secondo campo del Purgatorio Casella l'amico di Dante il musico amico di Dante che Dante incontra morto da poco è appena arrivato ai piedi del Purgatorio per cominciare il suo percorso di penitenza e Casella dice di essere giunto là perché viene come tutte le anime purganti dalla foce del Tevere dove un angelo raccoglie tutte le anime destinate al Purgatorio un Dio che era ora alla marina volto dove l'acqua di Tevero si insala benignamente poi da lui ricolto cioè dall'angelo a quella foce poi l'angelo è ritornato subito a quella foce a Elio dritta l'ala però che sempre qui si ricoglie quale verso Acheronte non si cade tutti coloro che non vanno all'inferno che non vengono calati su il primo fiume dell'inferno come il Nocchiero come sapete Carondimonio il primo fiume dell'inferno la Chironte chi non va alla Chironte viene alla foce del Tevere mentre la sorgente è tutta attrezzata come una sorta di monumento la foce del Tevere come quasi quella di tutti i fiumi è così qui vediamo proprio il punto dove l'acqua di Tevere si insala e tra l'altro ci sono intorno tutta una serie di hangar di depositi di barche di yacht di vario tipo accanto però c'è ecco vi mostro come il mio viaggio a un certo punto si affaccia sulla contemporaneità non vicino alla forza del Tevere c'è il luogo dove è stato ucciso Pierpaolo Passo e adesso era un luogo abbandonato veramente pieno di rottami di cose orribili adesso è stato sistemato da parte della lega di protezione degli uccelli addirittura è un bellissimo parco c'è anche un monumento e questo è la poesia di Pasolini perché Pasolini in una in una sua poesia che a leggerla oggi può sembrare veramente angosciosa fa riferimento ad un suo ritorno a Roma da un viaggio con l'aereo più vicino è fantastica di una propria morte proprio presso la foce del del temere una di quelle come martire di se stesso e tra l'altro in questo contesto poetico inserisce anche una citazione dantesca come colui che suo dannaggio sogna come colui che sogna il suo danno la sua rovina questo senso di rovina che è qualche cosa che io poi ho afferrato in tanti luoghi d'Italia purtroppo insieme a tutte le bellezze d'Italia questo senso di rovina lo ho provato almeno io quando mi sono accostato ad un altro luogo alla foce del temere sempre la foce più vicino alla foce non il bel parco ma un luogo semi abbandonato con delle capanne eccetera dove ci sono degli strani aggregati che sono come di rottami di immondizia che diventano monumenti ecco questo mi ha mi ha dato una sorta di singolare angoscia ho trovato una sorta di monumento alla plastica come immondizia costruito chissà da chi messo insieme lì chissà da chi è stata una una di quelle immagini che danno il senso della contraddizione anche del presente del fatto che viaggiare nel nostro meraviglioso paese trovare luoghi più belli meravigliosi si lega spesso anche a confrontarsi non solo e non tanto con le rovine ma con ciò che si disgrega con quello che la nostra cultura la nostra civiltà qualche volta ha inserito di deformante nell'ambiente nella cultura ecco viviamo in mezzo alla contraddizione nel fondo e credo che viaggiare dovunque quando è possibile oggi nemmeno possiamo viaggiare come sapete no? viaggiare in Italia viaggiare nel mondo ma attraverso una guida come quella di Dante poi in modo particolare ci fa affacciare continuamente al senso della contraddizione del mondo della contraddizione ecco credo la poesia di Dante c'ha questa forza che ci può e che poi è una poesia ricca di uno spirito contraddittorio credo che non ci siano altri poemi dove la forza della contraddizione sia così così marcata non soltanto della polemica ma anche nel vedere le diverse facce delle cose i limiti del nostro vivere in funzione certo di lui è di un percorso verso una verità suprema che purtroppo oggi molti di noi hanno perduto credo che ho parlato anche troppo bene grazie professor Ferroni della dottissima relazione con un itinerario molto ricco e naturalmente attraverso non soltanto i luoghi ma attraverso anche le lingue interessante la parte che riguarda il divulgario eloquenza ma non voglio dare spazio al professor Klamer che ha chiesto nella chat di una desidera porre un quesito ecco prego professor Klamer deve mettere nell'audio voglio solo chiedere professor Ferroni intanto lo ringrazio per questa bellissima conferenza e ci ha fatto venire voglia ancora di più di leggere il suo grosso volume ma molto interessante se può fare un cenno ai luoghi danteschi della nostra regione da Tiralli a quel che c'è vicino a Rovereto eccetera non so se il tempo lo consente volentieri certo sì sì è chiaro che non possono non esserci ma ci sono tutti cominciando da nord Tiralli naturalmente l'Alpe che serra la magna sopra Tiralli parlando del lago di Garda Suso in Italia bella giace un lago di là dell'Alpe che serra la magna sopra Tiralli che a nome è benancolo quindi c'è anche a parte una parte del Trettino anche il lago di Garda naturalmente poi ovviamente Trento come abbiamo detto e il castello nei pressi di Rovereto ma poi soprattutto la ruina la ruina dell'Adige quella che attualmente si vede uno magari che passa in auto sulla strada la strada statale quasi non la vede perché è contornata dalla strada però è formidabile insomma con il Montezugna in fondo mi pare si chiama e poi tutto tutto questa è un fenomeno tra l'altro vicino c'è quell'ambiente molto particolare che sono i lavini di Marco e nel mio libro non parlo soltanto di questi luoghi direttamente nominati ma visto che c'è l'Alpe che si era la mano do uno sguardo molto ampio ma insomma con parecchie pagine a tutte alle Dolomiti diciamo a tanti territori alle Dolomiti e quindi ho fatto appositamente devo un po' girare anche parlare un po' di queste montagne formidabili la marmolata poi quando ci sono venuto nel 2014 era il centenario dell'inizio della Grande Guerra e poi l'Italia è entrata nel 15 però erano già in atto molte mostre legate alle vicende della guerra e quindi un'interrogazione anche di questo delle lacerazioni date dalla guerra al castello di Tirolo c'era tra l'altro una bellissima mostra Robert Musil e come soldato combattente e anche giornalista per un giornale rivolto alle truppe austriache tra l'altro che è stato molto interessato ma ecco ci sono quindi vari squarci sulla regione tra l'Alto Adige e il Trentino i passi e tra l'altro la mia passione per il ciclismo non ma ma spinto comunque a ricordare le tappe dolomitiche a ricordare sul portoi Fausto Coppi per esempio di cui ero da bambino era il mio idolo tra l'altro ecco quindi c'è c'è molto della regione c'è un capitolo il capitolo dedicato all'Alpe che serve alla Magna insomma è abbastanza ampio e quindi poi ci sono c'è la Valzugana prima e quel lago di Caldonazzo e di Pozzi ce ne stanno da e quindi sono desiderio di tornare un grande desiderio di tornare in grado che questa situazione incredibile in cui ci troviamo non due così a devo dire che per quanto riguarda ormai la pietà piuttosto avanzata io mi sono detto abbiamo visto tante cose nel passato vicende del nostro paese eravamo siamo nati durante la guerra quindi per fortuna nostra non ne abbiamo nessun ricordo però un fatto storico come questo così radicale che lo è veramente non c'era mai capitato ma abbiamo avuto la chance di vedere anche questo chissà che sarà dopo ecco qui è chiaro che abbiamo bisogno di un cambiamento di rotta del mondo speriamo però speriamo almeno di poter ricominciare a viaggiare prego prego Giuseppe prego allora saluto il professor Ferroni che ho scoperto da una sua dedica che aveva molto cara una persona alla quale mi sono laureato a Napoli nel lontano 1973 Giancarlo Mazzacurati sono stato suo allievo e mi sono laureato con lui in una tesi su Mario Luzzi però io quello che trovo di straordinario nel libro che ha pubblicato nel 19 l'Italia di Dante oltre alle cose che sono state già dette e il riferimento agli scrittori della letteratura italiana che lui ha scelto di volta in volta come guida possono essere scrittori già morti ma si arriva addirittura ai 20 per esempio a Pesaro ho incontrato uno scrittore del quale sono amico che è Paolo Teobani allora volevo chiedergli questa cosa era programmata o è scattata durante l'itinerario questo come dire farsi aiutare dalle pagine di questi grandi scrittori perché in qualche caso come nel caso di Pomiglio credo sia addirittura una scoperta assoluta voglio sapere dal professore cosa mi dice in proposito ma sì non è che è stato proprio programmato il fatto è che questo viaggio era sicuramente legato a tutto quello che potevo trovare e quindi arrivando in certi posti o pensando di arrivare in certi posti mi veniva subito in mente qualcuno che c'era e che mi piaceva consultare mi piaceva incontrare volta per volta la cosa è venuta poi ci sono stati dei casi per quanto riguarda sintomi del passato io dovevo andare a un convegno su Zandotto allora perché non ci vado in collegamento al viaggio che Zandotto mi evoca tante cose per quanto riguarda il Veneto e per quanto riguarda certi scognitori che sono disperdamente legati alla consapevolezza anche fisica di ruolo soprattutto lì mi pare che Calateo si confronta poi con si salgono indietro a Giovanni della Casa qui da quelle su ponte il montello della battaglia adesso si chiama della battaglia a Nervesa lui deve aver scritto Calateo ma poi c'è tutta la vicenda della guerra della prima guerra mondiale i loro i della guerra il sacramento il movente del montello e queste cose sono venute poi interlitti c'era solo il fatto che io dovevo andare a un convegno su Zandotto perché mi dicevano quando è fatto anche scrivo questo libro altre cose mi sono venute mente lì per lì in Sardegna per esempio ho incontrato un vecchio scrittore purtroppo un po' dopo anni fa poi mi pare che ho l'ultimo tempo poco prima che il libro si è pubblicato e ho fatto il tempo a ricordare la sua morte del libro un vecchio scrittore salvatore mattutti che io conoscevo le volette poi colpito moltissimo dal suo ultimo di bretto che è una cosa raggela veramente dolorosissima ma allora ero anche un po' in vacanza però nel contesto della vacanza vedo i luoghi che tante non c'erano poi però quando mi sono trovato con tanta stanza mi fa perfetto un altro mare e io ho telefonato quindi delle cose sono forse per dire ma è proprio la natura del viaggio che è fatto in modo che tante cose sono scatturite dal viaggio non era tutto programmato è stata certo programmata la scelta di tutti uomini legato ho portato un testo dal te ogni volta mi sono fatto un itinerario che poteva conto che la possibilità di vedere una particolare area di tutti i testi dal te tutti i luoghi dal te poi il resto a volte venivano andando andando avrei potuto vedere tante altre cose dicevo prima che avessi parlato di tutto quello che ogni luogo porta che te l'abbè dovuto fare un'entrima e ho voluto registrare l'esperienza di uno che con un certo bagaglio culturale è una cosa che ha imparato nel corso della sua vita che viaggia e frequenta i luoghi grazie bene se ci sono e grazie a lei poi ho visto che mi hanno mandato un articolo sull'atti era lei sì sì la ringrazio tra l'altro ho scritto a una bravissima persona che si occupa dell'ufficio stampa che si chiama Giulio Giulia Giulia che mi ha mandato il testo gli ho scritto è una cosa bellissima quindi la ringrazio in modo particolare grazie grazie a lei altri quesiti ci sono noi abbiamo a disposizione circa diciamo dieci minuti ecco ancora se qualcuno vuole porre una domanda lo può fare quindi quanto riguarda il viaggio attraverso le lingue le lingue d'Italia ecco io ricordo naturalmente qui c'è un conflitto di interesse perché data la mia provenienza geografica ricordo che Dante parla del bolognese come della lingua più bella perché è la sintesi del maschile lombardo e del femminile romagnolo mette insieme queste due componenti maschile e femminile e il risultato è che il bolognese insomma è celle tra tutte le lingue in Italia però questo giudizio diciamo di Dante che Dante dà nel De vulgari eloquenzia non ha avuto come dire peso politico nella nella fortuna della lingua italiana nel senso che non ha pesato ecco oggi il dialetto bolognese è un dialetto come come tutti gli altri in Italia lei può dirci qualcosa su questo? eh beh certo il fatto è che tra l'altro esiste anche una una buona letteratura dialettale bolognese però ecco non ha non ha la presenza che ha che hanno altri dialetti no? in fondo nelle storie letterarie così c'è qualcosa non so forse è il fatto che a Bologna poi è c'è stata una lunga tradizione eh molto severa no? di tipo classicistico eccetera di tipo scientifico che forse ha 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 messo un po' da parte questa questa pratica diretta del dialetto che che è stato vivissimo naturalmente nel nel parlato ma la letteratura l'ha considerato relativamente poco ci sono alcune cose però di grande interesse io nemmeno le conosco bene naturalmente però c'è lotto lotti mi pare ci sono alcuni e poi in fondo è rimasta sempre però l'immagine della dolcezza bolognese no? in fondo cioè Boccaccio in una in una sua novella no? parla della singolar dolcezza del suo bolognese riferendosi alle donne veramente bolognese no? però ecco ora credo che a livello diciamo non a livello letterario soltanto ma a livello della comune coscienza nel nostro paese c'è un'idea molto forte di Bologna insomma non è non è una città insomma che viene sottovalutata attratti dalla città dal suo modello di equilibrio dalle cose che ha saputo costruire no? è una delle città più piacevoli del nostro paese per dubbio e tra l'altro Dante c'è stato pure naturalmente la carisella e poi c'è la carisella che c'è ma qual suole a rimirare la carisella sotto il chinato che sembra che le nuvole vadano no è una cosa io mi ricordo che la prima volta che andai a Bologna dovevo non so dove avere diciotto diciannove anni stavo sotto la 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 l'alteatore e passa un signore io guardavo proprio la lapide tantesca passa un signore ah Bologna Bologna la più bella città del mondo mi dice con accento molto così se lo lo disse ma così sono rimasto un po' simpaticissimo poi vabbè c'ho tanti tanti personaggi ecco io tra l'altro nel mio libro c'ho perfino un capitoletto che lo chiamo Bolognesità culturale che ricordo un po' il modello culturale bolognese del novecento quello che che ho un po' sentito c'era c'era la Bologna alternativa quella appunto desiderante così no questi un po' comica tutto il gruppo di scelati e poi c'è la Bologna severa ma molto umana che io la vedo incarnata erudita ma in quello che è uno dei personaggi per la mia vita per i rapporti personali che ha avuto ma più affascinanti che è stato il signore che è stato un grande italianista è insegnato a lungo a Bologna io sono rimasto sempre molto affezionato a lui e aveva proprio era era bolognese fino fino in fondo aveva una un suo legame fortissimo con la città e nello stesso tempo capace di spaziare a livello internazionale leggeva l'uomo dei libri ecco è stato ma poi c'è un dotante amico purtroppo un altro studioso di Dante anche scomparso qualche mese fa Andrea Battistini che è stato un allievo di Raimondi e poi un grandissimo studioso io ho un legame fortissimo con Bologna purtroppo l'aspetto linguistico non l'ho mai studiato fino in fondo quindi non essendo nemmeno un linguista io non e mi piacerebbe se forse si potrebbe cercare di leggere un po' di letteratura Bologna e c'è una Bologna popolare poi nella letteratura pensiamo anche a Bertoldo Bertoldino Cacasele Giulio Cesari Croce ci sono tantissime cose da tenere ben presente le segnalo che presso Pendragon l'editore Pendragon è stato pubblicato da poco in due volumi un lavoro di Daniele Vitali che è un glottologo che lavora a Bruxelles con la comunità europea proprio sui dialetti dell'Appennino dell'Appennino diciamo da Rimini fino fino a Parma Piacenza ecco quindi insomma è uno studio molto documentato che credo io non lo conosco so che è stato pubblicato ma conosco l'autore e quindi sono sicuro che si tratta di un'opera scientificamente seria e quindi rigorosa per chi fosse interessato ad approfondire spero se riesco a trovare il tempo mi interesserebbe molto vedrò vedrò lo stesso tante osservava che a Bologna ci sono tra i diversi quartieri ci sono leggere differenze di comunità anche per il contado per così dire per la campagna evidentemente ad esempio tra Budrio e Bologna si tratta sempre di si trova a 20 chilometri 25 chilometri da Bologna ma lì abbiamo una c'è qualche differenza di pronuncia molto precisa per cui chi appartiene all'uno all'altro ambito capisce subito se l'altro viene da Bologna e Budriese e viceversa insomma quindi ma si tratta di differenze minime potrei fare qualche esempio ma non è questa la sede io vi ringrazio moltissimo il professor Ferroni se non ci sono altri interventi veramente mi complimento con lui ringrazio anche i partecipanti e speriamo di ritrovarci un giorno attorno a un retto a parlare ancora al vivo auguri a tutti auguri auguri grazie professore grazie 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 arrivederci arrivederci